A Vallo della Lucania i carabinieri della compagnia locale hanno arrestato in flagranza due pregiudicati napoletani responsabili di furto di gasolio. I due sono stati sorpresi mentre asportavano gasolio dopo aver aperto un tombino che dà accesso alla cisterna di un condominio nel pieno centro di Vallo della Lucania. I due malviventi, particolarmente attrezzati per non dare nell'occhio, indossavano le classiche tutte rifrangenti da operaio. Erano muniti di attrezzatura completa nonché di un furgone con dispositivo lampeggiante che poteva far pensare a una regolare operazione di manutenzione se non fosse per il fatto che qualcosa nel loro atteggiamento ha immediatamente insospettito i militari alla cui vista i due soggetti hanno iniziato a velocizzare le loro operazioni di finta manutenzione. Grazie al tempestivo intervento dei militari dell'arma il progetto dei due falsi operai che avevano prelevato quasi mille litri di gasolio è fallito.